Nominato il nuovo consiglio direttivo della FIPE, Federazione Italiana Pubblico Esergenti nella sala Nesti della Confcommercio di Pistoia, in rappresentanza di circa 1500 associati negli ambiti di ristorazione, turismo e intrattenimento, il nuovo presidente interprovinciale, Tommaso Gei, sono stati nominate invece come vicepresidente vicario Vincenzo Galliano e i tre vicepresidenti con deleghe su Prato, Pistoia e Valdinevole, rispettivamente Simona Marinai, Daniele Andreotti e Lorenzo Bertelloni Abbiamo istituito il nuovo consiglio, una novità, quindi un territorio più ampio, due province Prato e Pistoia, una grandissima opportunità di rilancio anche delle nostre province con la possibilità di contaminarsi e quindi di crescere insieme verso una prospettiva più ampia Il progetto è quello di fare sistema come meglio possiamo e nonostante la gestione puntuale delle problematiche che ci possono essere su territori singoli, avere una visione più ampia per poter portare avanti dei progetti che coinvolgano tutto il sistema territoriale senza escludere nessuno. Oggi la Fipe di Pistoia di Prato ha vissuto una giornata veramente importante, le oltre 1500 aziende associate hanno eletto in assemblea la nuova guida di questo gruppo di imprenditori per dare una vera grande prospettiva ad un settore che vive una fase di grandi cambiamenti, di grande evoluzione al quale l'associazione vuole stare al fianco, sostenerlo, valorizzarlo, e respirarlo come merita.